Venezia 74 Venezia 74, tutti i film in concorso dell'edizione 2017 Venezia 74, tutti i film in concorso dell'edizione 2017. La 74 esima mostra del cinema di Venezia sta per cominciare, chi si aggiudicherà l'ambito leone d'oro per il miglior film? E chi sarà l'attore o l'attrice rivelazione di questa Venezia 74? . Premio speciale della giuria, premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente. . Qui le quattro giurie internazionali della mostra del cinema di Venezia 2017. Venezia 74, tutti i film in concorso in ordine alfabetico del regista. Human Flow. Di Wey Wey. . Germania, USA 140. . Mutter. Con Jennifer Lavrence, Javier Bardem, Michelle Pfeiffer, Domhnall Gleeson, Idaris. . Suburbicon. Con Matt Damon, Julianne More, Noah Jupe, Oscar Isaku e se a 104. . The Shape of Water. Con Sally Huggins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, Mikael Stullard, Octavia Spencer e se a 119. . . Con Adel Karam, Camel Elbasa, Camille Salame, Rita Ek Francia, Libano 110. . . Con Ariane Ascaride, Jean-Pierre da Rossin, Gerard Milan, Jacques Baudet, Anaï Condieresi e Sede Mostier, Robinson Steven in Francia 107. . Con Charlie Plum, Steve Puschen, Schloé Condieresi Sevigny Gran Bretagna 121. . 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 Con Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Claudia Gerini, Carlo Bucci Rosso Italia 133. Foxtrot. Con Liora Schenazzi, Sarah Adler, Jonathan Schirai Strele, Germania, Francia, Svizzera 113. Tre e Billboard Southside Ebbing, Missouri. Con Francese McDormand, Woody Arrelson, Summer Rockwell, Abby Cornish, John Akes, Peter Dinklage e Gran Bretagna 110. Anna. Con Charlotte Rampling, Andre Wins Italia, Belgio, Francia 95. Dominic Sinsing. Con Matt Damon, Shristoff Watz, Ong Shao, Kristen Vigueser 135. Ian Mianoa, Angel Svervite, con Ben Ki, Zoumeiun, Shike, Jeng Le, Liu Weiwei, Peng Ying Cina, Francia 107. Con Michaela Ramazzotti, Patrick Bruel Italia 105. Con Ethan Hage, Amanda Seyfried, Cedric Hilles, Victoria L'USA 108. Con Sam Neill, Brian Brown, Hamilton Morris, Thomas M. Wringt Australia 112. Con Helen Mirren, Donald Sutherland Italia 112. Ex Libris, The New York Public Library.